L'ultima partita amichevole che abbiamo giocato contro Padova come risultato era buona, ovviamente stiamo facendo passi in avanti, lavorando, però non è ancora il livello che mi piacerebbe di vedere. Non penso che il risultato di un amichevole può influenzare il risultato della partita contro Milano. La prima partita di stagione è sempre una partita che viene gestita molto di testa, chi riesce a tenere sotto controllo le emozioni e le sensazioni strane riesce a esprimersi meglio in campo, dipenderà anche ancora dalla bravura e della tecnica individuale dei giocatori perché in questo periodo mancano i meccanismi ancora. Mi aspetto una partita molto complicata. Come dicevi appunto, una partita che sarà influenzata sia dall'aspetto mentale, perché comunque l'esordio è sempre l'esordio, anche se in Coppa Italia, che partita ti aspetti, ma dal punto di vista tecnico a cosa bisognerà prestare particolare attenzione a Milano? Io stimo il lavoro di Roberto Piazza, di sicuro avranno lavorato in questo periodo loro per mettere a posto le loro cose. Sberto è un giocatore ormai con abbastanza esperienza di gestire tutti i giocatori in campo, sia i centrali che i giocatori di banda. Hanno giocatori esperti come Piano, Cosamerni, con tanta esperienza nel nostro campionato. Di banda Ishikawa è uno che è molto frizzante, molto veloce, ha direzione di attacco, buono in ricezione, ci può dare fastidio in battuta. Mare è un giocatore che stimavo da tempo, anzi qualche anno fa lo volevo nella mia squadra. Patry è la sorpresa del campionato dell'anno scorso, un giocatore che ormai si vede che ha delle buone possibilità e gioca a abbastanza buon livello, quindi sono una squadra equilibrata. Noi non possiamo prestare attenzione a uno o l'altro giocatore, dobbiamo capire il concetto di squadra loro e anche il momento della partita.